Salve a tutti amici di Youtube, sono io Fatto Kurama, insieme a me c'è... Dai qua Bene, stiamo facendo una sfida che ha... Una challenge, diciamo, che nessuno mai ha fatto in tutti i mondi Eh già, dobbiamo usare una fottuta schifo Che cosa, in cosa consiste dai, due che si brava La sfida consiste di usare... Io passo dell'ombra solo e lui rotolamento Esatto, praticamente usiamo soltanto la prima skill della nostra, insomma, del nostro personaggio Io utilizzerò il DM, quindi la prima skill è passo dell'ombra Io utilizzerò RS e dunque la mia mia skill è proprio rotolamento E dobbiamo fare un secret Un secret che andremo adesso a scegliere quale Ho fatto dei bigliettini con tutti i sei dungeon, insomma, segreti Adesso ne pescherò uno, sei pronto? Sì Vado Speriamo Esce uno falso, cazzo, è capito, ho pure uno Ok, vado Tendo questo Oddio No, eh Non mi dire quello che penso io Allora, lo mostro prima a loro E poi te lo dico Allora, vabbè Dammi a me Il capo del gruppo che inizio Eh, cazzo No, cosa fai? Perché sei riuscito? Ops, scusa Vai Ok, non mi ne capo Eh, non mi ne capo, ok No, guarda Sei pronto? Aspetta No, guarda C'è l'album E' rispitto io, eh No, tranquillo Allora vado, eh Allora No, io devo Allora Come i biglietti di luto Esatto Ti stavo dicendo Eccoli Ah, ne ho 44 Bene Vai Ok, vado Abyss Oh, non Abyss è meglio Eh, insomma Il boss non tanto È vero Non lo potremmo scettare È difficilissimo fare i boss Con rotolamenta e passi dell'uomo Cioè, come cazzo fai? Che cazzo è sto petto? No, scusa Toglio subito la cavalcatura Ok No, devo togliere pure il petto No, non mi fate Togliere il petto Mini PM Come facciamo Io posso lanci anche io le on the shock Ahah Il petto è già basso dell'uomo Puoi fare le bombette e tutto Io posso soltanto rotolare per terra E infiggere un po' di danni Bombette Saremo già morti anche se Oh Ma dopo i guerrierosauri Questi qua potenti Che hanno un casino di vita Sono impossibili Io non so quanti critici Sto facendo il mio petto E lancia a merda La skill intelligente Io sto spammando A Cioè, tengo Naturalmente su A E qui mi sto spammando A Io ce l'ho sulla C Ok Comunque ragazzi Oggi ve lo diciamo subito È arrivato il prevento di Rose E Finalmente Rose è arrivata anche da noi Per porca madosca E succederà un bordello Infine Sì, dopo Quando arriveranno anche le classi Bordello totale Ma io non credo che ne farò altre Su l'italiano Forse mi farò Aspetterò l'optimus Perché alla fine Da su un trooper L'ho già su Sulle no Io penso di farmi Quelle che farò Sulla Sul no La terza La seconda Mi ricreo La seconda Adesso Sulle no Si lo so L'ho provata Ma Ancora Non mi sta piacendo Anche se Usa le catene Esatto A me Diciamo Sono un po' quelle catene Che non mi piace molto Mi ha contrato anche il pvp Sicuramente E ho pizze Sono buone nel combo Però Non lo so Non mi comincia A me intanto la frega Mi piace perché In pvp L'ho vista Gioca solo Attive Infami La frega Non sbaglio È la più veloce Di tu Aio Tocca Io sto da solo Contro un cazzo Di coso E sto per crevare Bene Stiamo andando bene Ok E' vero Con la cresci potere C'ho questo affarino Che mi aiuta Ah giusto E' vero Tu sei anche avvantaggato Io S'ha cresciva Dendo Che ho portato Un po' di fiuma Io che vado al loop Anche se io faccio Cacchia Io ho già Che faccio schifo Con il pn Gioco solo Con le ara E con i luci Che sono stati Inerfati a puttane Esatto Poi Povero Dl Questa era Una challenge speciale Speciale Nerf Sì Con il luci Nerfata puttane Sì Oddio No Continci Veni qua Ah Oh me ne ha dato uno De coso Merce del regno dei cieli Me ne ha dato uno Ah C'è qualcosa da droppare Quindi Io credo che era un dungeon Quindi avremo la cavalca Stiamo parlando ovviamente Del nuovo evento Che dobbiamo raccogliere Quindi a quanto pare 50 merce Dal regno dei cieli E poi ci danno Questa bella cavalcatura Delle vocazioni Turbine Come cavolo si chiamava Per il prezzo di Rus Sicilmente Non so Cazzo c'entra con Rus Però va bene lo stesso Eh sì Tanto Dovevano fare i soldi Sì ma questo qua Vuole morire o no? No Ok Facciamo così Ho una combo Usiamola Ho tante combo E usiamole Se no sto usando solo Il dark hole E il loop Del cazzo Anche perché Il dark hole Sul bm È la combo Più figa del bm Per me Anche se non lo uso Quasi mai in pvp Forse Poco Questo Yuhuu Ah sì Mi mancherebbe Grimfie E faglio le combo Serie Ma boh Io vado Vado avanti Che è il sudicollanto Oppura viva L'ho già ucciso Oh è strano Che non si scoppiò Fagli stetto Con sta merda Ok sì Ma te l'hai più 9? Magari Chi era mai? Ce l'ho più 8 Ah Cioè era più 9 Era ancora più Di più forte Ero Sciottavo tutti Io l'hai più 9 Però non so quel cazzo Per esempio Yappì Come spaccare le porte Spero Mi è stato sì La più 9 Aspetta Mi sarà un dubbio Ah sì Ok È la più 9 Io c'ho tutto Io c'ho tutto Il 7 Verserker Quindi c'ho anche Gli effetti supplementari Quello Hai un 7 migliore Del mio Io ho soltanto Due pezzi Del drago rinforzato Di sopra E poi di sotto Altri due pezzi MK4 Perché non sono neanche rinforzato Tra l'altro No il mio ancora Non è rinforzato Guarda Se lo facevamo Con l'evento Del 3000 Spammavamo a puttane Lo sapevamo È vero È finito anche l'evento Giusto E quindi Non possiamo Spammare a puttane Giusto È finito l'evento Quello dei 3k di mana Tipo Quello che c'era La fatina Di ora al culo Come dice genius Esatto Esatto Comunque Sto aspettando I video di genius Del torneo Io devo vedere Il torneo Anche se non posso Non mi va In quei giorni Non potevo nemmeno io Ho perso tanto Malissimo Contro Quello che fa Di smithnale Ha perso pure Un'amica mia Contro lui Bravo pet Che usa Una mini honda shock Lui è il mio fratello Il mio pet Questo pet Il mio fratello Minore Mi sa che Contro il boss Ci toccherà Usare le pozioni Lo sai vero? Ma pure Io sto usando pure adesso Le pozioni No io dico Le pozioni miracolose Ecco Io sto usando Le pozioni Attanti Io pure Le sto usando E sto laggando a puttane Mi so Sto mandando Peccato per Inmana Perché Di solito Le uso anche Per inmana Le pozioni Lassanti Ma non le devo Spammare Ma adesso Sto usando Soltanto per la vita Perché Inmana Rimane Anche lì Perché Sto usando Soltanto E mi serve Una mano Da schicoso Perché Non voglio Una moglie Io qua C'è Sta la scatoletta Magica Eh La caglita Via Peccato Quanto Spam Ah ma Sono questi Arco Li ho presi Vai picchiali come non mai Ai Ambizione Peggio Delle Resis Che mi lanciano Ambizio Ok Un è morto Dovrebbe E basta Con sta Ambizioni Che coglioni Io Io che mi Ricordo Di avere Altre combo Col bm Eh De ne è molto più di me Sono il bm Quindi Vai anche meglio E poi il bm È full da più Fino da un dungeon Eh esatto Mo faccio Le due Troppe Wow Sì Per dungeon Sì per pvp Inverso Con l'RS Che L'RS Solita Chiamo È meglio In pvp No L'LK È più forte In pvp No L'LK È buono Anche in pvp L'RS Che fa cagare In pvp Mannaggia lui Che mi Eh no Prima L'LK Era full pvp Poi dopo Con mulino a vento No L'LK Era anche Che faceva schifo Dando potenzione Per forza Porca puttana Prima era la classe più inutilizzata Perché aveva meccaniche tutte vecchie Adesso invece Qualcuno che entra su Skype Porca madosca via Mi hanno distratto quelli di Skype Siamo presto che mazzucati Eh e questi volanti Qua mi servirebbe volo i rondine Ah è vero non sono un'Ara A volte Sì Con volo i rondine O con l'hyper dell'asura Che pulisce quando un corpo Io puoi fumare questa mini combo No Ok Io ho paura Quando per Eh Faremo contro il boss Oddio Vediamo nel mondo Vabbè se era l'Apo Eravamo morti Perché quello resistere Io seguirebbe Una Spaccarmatura Totale Shot E io ce l'ho Spaccarmatura Anche se Un'è Sì a mio parere Di secret E quello di zona contaminata Sì però Il primo DG Il primo secret È quello più difficile Però A mio parere Anche perché Ciao allora Il boss Gli serve Ci servirebbe Per i secret Un fisico Un magico E poi È già Tosta Se non siamo Tutti e due Fisi Se eravamo due Fisici Quello Non lo scettavamo Nemmeno Ho dovuto Non abbreccare Perché stavo Amore Io sto pensando A questi piccioni A questi Cosi Scheletrici Si fa un bordello Di damma Quindi La raglia Di Raul Ok Che è È stato Il pet mio Bravissimo Pet Qualche volta Sei utile Oh cacchio Sto per crepare Eh ragazzi Io so Abituato ai PvP Con il BM Non In Pv Anche se Poco Faccio De dungeon Sto coso Anche Senza Senza Giga Drive Che spamma Bestia Aio Aio Oh il pet Sta Skillando Come non mai Il mio Bravo pet Fate Volta Oh mi stanno Massacrando Qua Ragazzi Non fate Questa challenge Non la fate mai Ragazzi Ve lo giur Ve lo giuriamo Con il Kamasas Che ci stanno Sciottati Tipo tutti i programmi Che c'è scritto Vietato Provare a casa Esatto Tipo questo Vietato Provare a casa Questa challenge Perché Già Poi il BM Senza Skill Che pulisce Poi abbiamo preso Due personaggi Che proprio hanno Delle skin Inutili Perché alla fine Prendi L'Usel All'attacco Di Di Lu E che te Comunque è buono Prendi Rena E ha comunque L'attacco Delle pezzi Quindi tolgono Un mercoledà Di un dungeon Noi abbiamo Con rotolamento E passo Cioè What the fuck Anzi In verità Il passo Normale Non c'ha Nemmeno Le bombette Quindi Dobbiamo Ricordarcelo Aio Sto Amosauro Potenziato Qua se Andava Se potevamo Usare Solo Tutte Attive Ero Ancora Più Felice Invece No C'è Tapposato Lo Passo Averrà La prossima Challenge Tutte Attive Userò Colpo Sonoro Lo Sai Che è La skill Più Nappa Del PM Anche Se In Questi Anni La Sto Usando Anche In PvP Ed Una Cosa Strana Da Me Passo Dell'Ombra Salva La Vita Meglio Vado Avanti Qua Veramente Mi servirebbe Spacca Armatura Qua Mi servirebbe Un LK Come si Scurano Che Cazzo Come faccio Ucciderli Se Spamano Pure Vai Vette Uccidilo Tu No Eh Io Un Assai Inutile Che Ancora Il Baby Quindi Non Fa Un Cazzo Bene L'ho Ucciso Non So Come Ho Fatto Ma Da Solo Ce L'ho Fatta No Seriamente Al Boss Non C'è Sta Scritto La Regola Che Non Dobbiamo Usare Pozioni Miracolose Eh No Ci Sciottano La Regola E Delle Skill Poi Tutti Il Resto Non Conta Niente Quindi Vai Utilizziamo Tutto Tutto Quello Che Abbiamo Abbiamo Gli Orpi Del Vento Anche Se Tanto Non Ci Serviranno Niente Perché Noi Abbiamo Skill Sciottose Non Abbiamo Niente Siamo Pover Ragazzi Però Io Sto Ho La Doppia Barra Su Sto Coso Quindi Le Altre Sette Parti Delle Skill Sono Andate A Farti Potere Basta Spamma Peggio Delle Isce Porco Vinci Si Lo So Ragazzi Io Sono Un Grande Odiatore Della Isce Anche Se Dimmi Uno Chi Ama La Isce Voglio Dire Uno Che Il Gioco Ovviamente Guarda Che Io Ho Iniziato Con La Isce No Con A Ro Io Non Ho Mai Giocato Una Isce Perché Le Odio Non C'è E Va No Io Amo Solo La Void E Basta Su Tra Le Tre Classi Aio Con Vinci Ebbene Si Ho Iniziato Con Isce Dark Dark Void Princess Ragazzi Ed è Stata Una Cosa Bella Sì La Void Princess Sì Bella Da Stare Anche La M No La M No Non Ne Parliamo Con La Saponetta Quella Cazzo Di Skill Che Mi Insegue Come Un D'an La 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 Dv A me Mi piace Più Tra Dv E Ah ok Io racconto La merce Delle Cospa Però Allora Purtroppo Cosa Scarto Che Bombette Mi sta Uccidendo Raccoglie Aspetta Raccoglie Scappa Aio Sto Breccando Non è una cosa bella Breccare Qua dobbiamo Spammare Spammare Porca Madosca Quindi mi tocca Spammare Solo una combo Questa Quella Dei sicuro Poi stiamo Giocando Non ce la faremo Mai Ma una brecca Capola Perché Ma una brecca Uh Uh Sì No Oh Che cazzo Non abbiamo mai Ha breccato Porco Mi si è Buggato Mi ha ripreso Tutta la vita Che gli abbiamo Tolto In pochissimo Tempo Aspetta Incitami Ti amo Se fai Ecco No Non ti amo Più Perché Ma è impossibile Chi ha Chi ha creato Questa challenge Sono stati noi Siamo stati stupidi Eh Stai decidere Devamo fare un dungeon Ormai Non da abisso Anti noi Secret Che so più Quelli Sono totalmente inutile Perché neanche lo prendo Quello totalmente Tu bandi Non mi fai niente Faccio Ehm Sì Sì Vabbè Vabbè Io sto usando Assondito Call E non E non ce l'ho Porca madre Quaranta Ce l'abbiamo Totto No No Si sta riproprando Tutta la vita Non abbiamo Tutto Io avrei Gli orb Ma non ci facciamo Niente Gli orb Ma tu c'è Un pasqua Caso No Non ci sono più E quello è bello Vedo cosa tengo io Vedi Consumi No tengo tanto le orb E basta Io ho le orb del vento Ma non gli facciamo Un cazzo Non facciamo niente Io tengo orb del fuoco Orb del veleno Ma non gli facciamo niente Comunque Mi spio di infiammato Ah E niente Dove me non breccare Comun coglione Se avessimo Le carte Dei maestri leggendari Ci aiuterò Sì No 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 Non ti ci provare Ma cosa No Preso No 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 Anche un quarto Della sua vita Che mi fa Un po Ciao Aio Aio Ce la col bm Perché ce la col bm E' carino E' coccoloso E' vabbè Mi toccare sto a cucinio I porco Da Gagli a fuggire C'è il Nemesi No Rispi l'impolato Non ce la faccio No 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 Fisof Cosè Fisof Forma La Fisof Vai Mettiamo tutto Cazzo No No Metti il ghiaccio Metti il ghiaccio No Metto tutto Non significa niente Lo spommo qualcosa Non ce l'avremo Insomma Guarda quanto cazzo Ti tolgo Con una gombetta Fai quella combo Del Raven Quella OP In alto Ti lancia Tipo La mini onda shock Ah Quella Ah Dio Mi ho fatto male Sta stronzo Dai lancia il respiro E' meglio Del veleno O di che so Vabbè So E poi tu c'hai Anche La cosa Della spada Che si trasforma Questo non va bene Per me Vabbè Non è un gran che Voglio dire Sì Ma gli tagli Effetti No Cazzo Ah sì ma C'è un complotto qua Tu guarda la mia vita Sto sparando più Pozioni Che Perché Perché io Adesso ti dico Avevo Un set di pozzone Miracolose Da 100 E adesso sono 85 Ok Forse anche con l'effetto Dai portiamo Cosa metà Tu pensa quando arriverà a 10 Che ci farà danni a non finire E ho 4 pietre mie Suscitanti Io ne ho 6 Dai Siamo pure nella merda Non mi farò tolamento What the fuck 19 My pet Fa qualcosa di utile Manca poco Manca poco Manca poco Ha fatto qualcosa di utile il mio pet Qualca cosa Non fai I primi del mondo Con il compito di questa challenge Ce la faremo Guarda se Crepo Assandì Ah c'è gli orbi della luce però Eh ma non Beh adesso Spammo orbi del veleno Facciamo che recupero vita Non servire la non cazzo Però magari Evitare di recuperare vita così Vai orbi del veleno Spara E non l'ho preso Si l'hai preso Ma lo Non taglia L'unica skill che Che non Mi dà l'invonerabilità Se avessi la scombo Del DS Quella Che rotola Era ancora meglio No 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 aspettate Ok andiamo Corri Dai 12 vita Orbi del veleno Boom Se ce la facciamo Giuro che Sì No Non passa cosa Ah io Stai 10 Ecco Siamo morti Se non ci abbiamo Hyper Ecco Perderemo vita A non finire Dai 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 Ce la faremo Ce la faremo No Oh me Cazzo Mi piace Mi ha Mi ha Mi ha sciottato Così Ah sono morti Oh dio Mi mani a break Vai No No Cazzo È vero Avevo l'orbo della luce No De quel ladri Cacchio Ok Vai Vieni 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 Ok orbi del veleno Bam No È da Ma cos'è Mi ha sciotta Così Sì Vabbè 8 di vita Vuoi morire Con un hyper Sarebbe già stato morto Ok Altri due pietre di animanti Io ne ho 3 No E non Io farei una ritirata strategica E aspetterei un attimo Che mi si ricarica le pozioni Ma arriva pure qua il lancio a via Merco Diavolo Ok Ho capito Dai 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 Manco poco No Palle Ok No Non è più nemmeno Non è più nemmeno Eh vabbè Ci ho fatto Vai Speriamo che sia l'ultima Guarda del veleno Vai 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 Non mi ha lanciato le bombette Non va bene Eh ma cos'è Dai Dai L'ultima barra Ti prego Il pet ha fatto questo Ti amo pet Qualche po' Allora usi una peta di animante E poi non Pure io l'ultima Quindi Non lo risultiamo in questo mio pet Io ne ho solo una Sì Quando te lo facciamo Messo Abbiamo vinto Arma della Arma duale della forza del drago Wow Troppo Credo Io ho troppato l'arma di CL Quindi Di Lusial Anche Yeah Aspetta festeggio così Ho fatto il falò Anche se non è una cosa giusta Oddio Oh però ce l'abbiamo fatta Primi al mondo Aver completato questo challenge Vagoti Eh Con il pet che aveva shottato Però eh Ricordate che il mio pet Ha colpito un tipo Con una mini onda shock Quindi Forever pet Quindi Adesso ho completo la quest Io non so come ho fatto Troppo ad un'arma di Lusial Bene Che ci faccio La venderò Tanto Non ci posso fare niente Ho già tutti e due set di Lusial Fatti bene Quindi la venderò No ho sbagliato Aspetta Io stacco Staccheremo il video Perché L'abbiamo fatta Ci siamo riusciti Mi sento fiero Ok Ok vai vai Va bene ragazzi Questa challenge L'abbiamo finita E ce l'abbiamo fatta Ragazzi Primi al mondo Ad aver comprato questa challenge E vi sfidiamo ovviamente A voi Fate e provate questa challenge Però vi consigliamo Di avere più pietre Esatto Molte pietre Io ne ho Molte pozioni anche Sì Io ne ho solo una E diteci anche Quale Sigret avete fatto Il tempo Che ci avete impiegato E poi Noi Vedrò il video Un'altra volta Per vedere Quanto ci abbiamo messo noi Sicuramente Tanto Ma tanto tanto Sì perché non avevamo Non avevamo proprio Belle skill Avevamo Passo dell'ombrero Trotolamento E poi Esatto Non è tanto Poi io Sai Come dire Li dicono Nonostante 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 Io Non ho più Oltre Quindi Però C'è tutto Il set Tutto C'è tutto Il berserker Vargo Anche L'accessorio C'è tutto Quindi Quindi ragazzi Il video può finire qui Se il video vi piace lasciate un bel like Passate alla pagina Facebook Link in descrizione Anche dal canale Ovviamente Di Batikurama E noi ci vediamo In un prossimo video Bella Bella ragazzi Ciao